da Fulvio Collovati a Simone Braglia ho l'onore e il piacere di ospitare un altro eroe di Anfield Simone benvenuto buongiorno a tutti voi e ciao Carlo grazie per aver raccolto il mio invito andiamo subito sulla stretta attualità eh da Alexander Blessing ad Alberto Gilardino cosa è cambiato secondo te e cosa può cambiare da questo Grifone? Ma secondo me è cambiato in meglio dal punto di vista eh della personalità e dell'esperienza che Alberto Gilardino ha da ex giocatore e quindi eh mi augurerei eh che eh Alberto Gilardino come si legge eh sui quotidiani come si legge dal da alcune considerazioni eh rimanga fino a maggio e non rimanga ad interim perché penso che rimanere ad interim vuol dire la parola stesso lo dice è solo in momentaneamente io auspicherei che un allenatore per il bene del gruppo per il bene di tutto quello che è anche psicologicamente la gestione eh rimanga fino alla fine dell'anno anche perché se dovessi guardare non vedo altri allenatori che possono fare il caso dell'agrifone. Al di là del discorso allenatori c'è una rosa che insomma oggettivamente sta piuttosto deludendo rispetto a quelle che erano le eh aspettative di inizio stagione. Sei d'accordo? No, non sono d'accordo per il semplice motivo che all'inizio la rosa era altamente competitiva. Ora se la rosa si è involuta probabilmente non non è non è è dovuto in parte a responsabilità anche della rosa ma in in parte secondo me ad una eh diciamo a una testardaggine dovuta dall'allenatore in una in in quella poca gestione gestionalità ed elasticità gestionale che l'ha contraddistinto e che ha portato a eh secondo me a snaturare alcuni giocatori. Da Martinez a Semper da portiere a portieri come giudichi questa alternanza nella porta? Voi portieri ci insegnate che insomma le gerarchie devono essere chiarissime altrimenti la resa degli interprete può essere ostacolata? Ma su un ruolo dove la 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 il fattore psiche è fondamentale io credo che eh la gerarchia sia predominante in questo bisogna essere chiari e e subito a mettere in chiaro chi chi è il portiere titolare e chi è il numero dodici. Ora eh sta giocando Semper per un infortunio occorso a Martinez però Semper come già all'inizio io ebbi a a dover giudicare secondo me era il portiere che a secondo il mio punto di vista e il mio parere avrebbe dovuto partire da titolare. Poi la scelta è caduta su Martinez e vabbè eh bisognerebbe chiedere a chi ha imposto Martinez come titolare quindi per cui eh io credo che in un campionato che è totalmente diverso da tutti gli altri campionati quello di Serie B eh credo che bisogna eh che ci siano giocatori che questo campionato lo conoscano e conoscano l'approccio che bisogna avere perché prendere delle scommesse secondo me in un club eh prestigioso quale quello del Genoa secondo me non si fa il bene della società e del club. I sette 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 partners sono in sella al Grifone praticamente da un anno c'è questo nuovo assetto societario di stampo americano che parte dell'opinione pubblica sta facendo un po' fatica a digerire perché magari legata a vecchi schemi con il presidente italiano e una gestione diciamo un po' più domestica tu che giudizio dai di di questi americani e in assoluto di questo assetto societario. No sul discorso della società sugli americani io sono totalmente d'accordo sull'avvento di questo gruppo che patrimonialmente ha una solidità indiscutibile. Eh è più che altro sulla gestione tecnica che pongo le mie attenzioni perché poi i risultati li fai dalla gestione tecnica. Un esempio su tutti a mio modo di vedere eh il Milan. Faccio l'esempio del Milan perché il Milan se voi vi ricordate antepandemia si parlava di esautorare Pioli, Maldini e Boban. Poi va bene la gestione e soprattutto il mettere in piazza quello che sarebbe secondo me una regola santa e sacrosanta nel calcio va bene Boban si sacrificò alla causa e Maldini ebbe le rimostranze da fare e costruirono eh Fredri Massara e Maldini cioè due persone che eh eh due ex giocatori che hanno fatto la storia delle rispettive nelle rispettive carriere professionali hanno gestito lo spogliatoio insieme a Maldini va bene e sono arrivati a a fare il risultato che hanno fatto i risultati che hanno fatto a vincere un campionato italiano. Secondo me nel Genova manca questo. Manca gente che sappia va bene come affrontare il nostro campionato e che viva lo spogliatoio inteso come tale va bene perché? Perché per dare quella serenità necessaria al gruppo di giocatori perché possa arrivare al risultato sperato per eh il territorio e per un club prestigioso e storico quale il Genova. Hai parlato del Milan colori che sono nel tuo cuore pensiamo assieme a quelli del Genoa del Como e anche della Perugia allarghiamo il discorso su questo campionato di Serie B. Le lepri sono il Frosinone e la Regina. Cosa ti aspettavi? Cosa ti aspetti? Tutto nella norma. Cosa succede in questo torneo cadetto secondo Simone Braglia? Ma guarda eh. In questo momento può succedere di tutto. Io credo che il campionato cadetto lo si vinca in queste partite cioè nel giro di boa tra campionato eh tra andate e ritorno e eh secondo me il Genoa ha tutte le carte in regola per poter arrivare all'obiettivo. Eh il problema è arrivare all'obiettivo con delle chiare comunicazioni e con delle chiari eh va bene progettazioni dal punto di vista tecnico. Secondo il mio punto di vista in Italia non si può agire pur essendo valide con una metodologia legata all'algoritmo. Secondo me in Italia bisogna ma in Italia ma non solo in Italia in tutto il mondo bisogna andare sul campo e a vedere i giocatori come interagiscono e bisogna prendere i giocatori non che siano delle scommesse ma che siano delle certezze per poter arrivare only one year come hanno detto come la società ha detto a quello che eh tutti i genovani si aspettano di poter arrivare. Viceversa la vedo dura. Simone Braglia uomo del lago di Como che si innamora del Mar Ligure la la genuanità ti è entrata dentro e poi non ti è andata più via sono passati vent'anni dal da quella grandissimo periodo che ti ha visto grande protagonista dici con orgoglio ancora oggi quando passo da Genova mi sento a casa. Eh sì eh quando arrivo che passo il Turchino e vedo le palle palle eolica che c'è nel distributore di benzina e vedo il mare eh sì è vero eh su un H dico in genovese e io credo che mi è rimasto dentro ma perché perché comunque io eh quattro mesi all'anno ho sempre vissuto la realtà Ligure in quelli cieli Ligure quindi ho sempre avuto da quando sono nato sono sempre stato eh largami per larga parte dell'anno in quel territorio ed è gente della quale sono effettivamente veramente legato oltre che essere la squadra professionalmente dove ho ottenuto i migliori risultati della mia carriera. È fin troppo facile rispondere signorini ma quale personaggio di quel Genoa farebbe molto comodo al Genoa di oggi? Ma io credo che qualsiasi professionista possa essere eh parte in causa in quello che è la realtà attuale del Genoa eh però vedo poca eh poca concessione da parte di chi oggi sta al potere dal punto di vista tecnico sembra quasi che gli ex giocatori o eh gli ex professionisti del Genoa diano quasi fastidio a al fattore proprietà e al fattore eh e a coloro che hanno la gestione tecnica. Io credo che invece sarebbe una risorsa da dover sfruttare però questo è il mio parere quindi per cui eh lo dico così fuori dai denti eh sono sceso anch'io a parlare qualche volta ma non mi vogliono quindi stop uno per il momento. Siamo sotto Natale è tempo di regali facciamo pubblicità e neanche tanto occulta al tuo bel libro intitolato la porta di un calcio pubito dove esalti i valori del calcio e poi dello spogliatoio e di rimbalzo anche della vita Simone Ghebraglia cosa dice di questo calcio datato duemila e ventidue? Probabilmente fai un po' fatica a riconoscerti. Sì faccio molta fatica a riconoscermi perché predilige dalla perché predilige quello che è un aspetto nel quale io reputo importante ma secondario cioè quello che è legato al fattore economico del dio denaro quindi per cui il denaro è una grande realtà con i soldi si fanno grandi cose però bisogna sempre avere un aspetto umanitario e di giusta umiltà che non guasta mai nel discorso della gestione di qualsiasi ambito settoriale che si possa considerare impresa e quindi io credo che la parte di sport deve tornare basilare la parte di sport legata alla formazione dei giovani eh tra l'altro il Genoa ha una ha un settore giovanile che da questo punto di vista ogni anno eh sforna giocatori e potrebbe sfornare giocatori per la prima squadra però questi non vengono mai presi in considerazione e questa è una grande perdita per il Genoa ma anche per il calcio nazionale eh inteso come nostro nazionale lo vediamo tutti quello che sta passando d'Italia quindi credo che una giusta riflessione debba debba eh giocoforza essere fatta eh nell'ambito delle delle proprietà eh straniere che si avventurano nel nostro campionato. Simone Braglia si veste da babbo Natale e cosa porta il suo grifone per questo Natale venti ventidue? Cosa porto? Vorrei portare la mia esperienza però purtroppo non è possibile e quindi auguro a tutti un grande in bocca al lupo e un e una speranza di poter veramente ritornare ai fasti che furono del del mio passato. Simone Braglia grazie gentilissimo e naturalmente buon Natale. Grazie e buon Natale anche a tutti voi e buon Natale grazie a te Carlo. Ciao. Grazie a te. Grazie a tutti